Tenere tra marzo e aprile a Pasqua la prossima edizione di Lucida Artista ed utilizzare il tempo sospeso per varare d'intesa con tutte le istituzioni ed il contributo delle associazioni di categoria un progetto di valorizzazione del turismo in chiave culturale. E' quanto in una lettera al sindaco di Salerno, al presidente dell'aggiunta regionale della campagna Vincenzo De Luca e al presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete chiedono gli albergatori di otto strutture situate nel comune capoluogo. Hotel Brumann, Albergo Fiorenza, Grand Hotel Salerno, Loitz Baia, Mediterranea Hotel, Montestella, Plaza ed il Centro Congressi Polonautico hanno firmato in maniera congiunta una lettera in cui, riconoscendo il valore inestimabile dell'evento, presentano una serie di idee. L'obiettivo è quello di non cancellare la manifestazione che più di ogni altra ha avuto un impatto economico sulla città, sul PIL del comune capoluogo, oltre che nell'accrescimento della notorietà internazionale di Salerno. Ma anche ridurlo, scrivono gli albergatori, non avrebbe senso e per questo propongono di creare un evento parallelo come Artisti in Luce, un festival nazionale di teatro musical in lingua inglese, aperto a tutte le scuole d'Italia sfruttando la bellezza dei teatri cittadini. E poi ancora la realizzazione di un nuovo sito museale nel centro storico, dedicato all'esperienza culturale della scuola medica salernitana, l'utilizzo degli spazi del vecchio tribunale per la nascita di un nuovo sito museale in grado di ospitare il Museo dello Sbarco, ed infine la creazione di strumenti tecnologici che agevigliano la fruizione dei beni culturali nel centro storico. Da parte nostra, aggiungono gli albergatori salernitani, ci rendiamo disponibili a supportare l'amministrazione comunale di Salerno in questo percorso, garantendo la presenza alle fiere nazionali e internazionali per la promozione del turismo cittadino, alle quali ci auguriamo che nel futuro il Comune di Salerno voglia rinnovare la presenza.